Innesto in difesa per i nerostellati. Arriva David Bitsindou, difensore francese di origine congolese. Il calciatore classe 89 proviene dalla massima serie finlandese dove ha militato nelle ultime tre stagioni con il PS Kemi. Vanta inoltre esperienze in Inghilterra, Bulgaria e Francia. Il suo ruolo naturale è quello di difensore centrale ma può essere impiegato anche come tersino destro. La società dell'USD nerostellati in una nota spiega che si tratta di un colpo di mercato per dimostrare la ferma convinzione di voler competere in un campionato prestigioso come quello di Serie D. Dopo l'arrivo del difensore francese si attende quello di Benjamin Onwaki, attaccante nigeriano ex primavera della Juventus. Sono problemi burocratici che in questo momento stanno frenando il tesseramento di Benjamin. Speriamo di averlo prima come abbiamo fatto un'agenda con la società di cercare di rinforzare questa rosa soprattutto in delle situazioni di campo dove effettivamente abbiamo delle deficienze strutturali. Dopo gli svincolati si aspettano novità a dicembre per cercare di salvare il salvabile. Nel frattempo il gruppo deve ricompattarsi dopo l'ennesima sconfitta maturata la scorsa domenica contro la Jesina al termine della più brutta prestazione in assoluto a giudizio del tecnico di Marzio che subito dopo la partita aveva detto. Vedremo in settimana ancora una volta di ricompattarci, di capire i ragazzi dove effettivamente c'è da parte di alcuni questo blocco mentale. Per Matteo Di Marzio a questo punto è giunta l'ora delle scelte. Cosa accadrà nel mercato di riparazione del prossimo mese? Il tecnico ravvisa la necessità di un confronto urgente con la squadra. Dobbiamo parlarci e vederci negli occhi in settimana per vedere veramente chi ci crede a questo punto e chi non ci crede.